Sarà la polizia del commissariato di Capo d'Orlando a verificare se vi siano responsabilità nel cedimento del tratto di strada lungo la Naso Ponte Naso che collega il centro culinare con l'autostrada della costa. Ieri gli agenti dell'UIGOS hanno posto sotto sequestro preventivo la strada su richiesta del sostituto procuratore di patti Giorgio Orlando e decreto firmato dal GIP Ines Rigoli. Nei giorni precedenti invece erano stati acquisiti il municipio gli atti degli interventi conclusi a luglio e che erano costati complessivamente 1.300.000 euro. Soldi messi a disposizione della protezione civile e che avevano interessato due differenti punti. In quello in cui adesso, mezza carreggiata e sprofondata e l'altra metà si è letteralmente staccata dal muro laterale mostrando profonde fenditure, si erano spesi circa 160.000 euro che allo Stato sono serviti davvero a poco. Da quanto si apprende da fonti del Comune, la strada ufficialmente non era ancora stata collaudata e quindi, tecnicamente, si tratterebbe ancora di zona di cantiere. Quindi gli investigatori dovranno capire perché era stato permesso il traffico ad auto e mezzi pesanti. Inoltre, si dovrà chiarire come siano stati eseguiti i lavori, visto che l'intervento ha resistito meno di sei mesi. Nel progetto comunque era già evidenziato che i fondi della protezione civile non sarebbero bastati per consolidare il tratto adesso venuto giù e che serviranno altri soldi. Soldi che proprio la scorsa settimana la regione ha sbloccato concedendo al Comune di usare circa 350.000 euro di ribassi d'asta proprio per la messa in sicurezza del tratto franato. Intanto però la strada rimarrà chiusa e l'inchiesta della Procura di Patti andrà avanti.